Il Comune di Montemurlo bandisce la plastica monouso dalle manifestazioni a cui concede il patrocinio e, anticipando la scadenza del 2021, elimina l'utilizzo dei bicchieri di plastica o seggetta in palazzo comunale, nella biblioteca, nelle scuole e in tutti gli uffici. Abbiamo approvato una delibera per aderire alla campagna del Plastic Free Challenge del Ministero dell'Ambiente. Rientra pienamente in uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale, che è quello ovviamente di ridurre la produzione dei rifiuti e soprattutto di far sì che ci sia la possibilità di ridurre e di fare anche del nostro Comune un Comune in cui la plastica monouso è eliminata. Siamo partiti dalle manifestazioni del Comune, da quelle che patrociniamo nei confronti dell'Associazione del Territorio, perché questi sono momenti in cui c'è un uso importante di questi prodotti. La plastica monouso sappiamo è uno dei primi motivi di inquinamento anche dei nostri mari e dei nostri oceani. In questo modo quindi diamo risultato concreto e facciamo sì che i nostri cittadini sappiano anche e abbiano quindi un esempio di quanto è importante eliminare questi prodotti dalle proprie abitudini. La delibera ha anche un respiro più ampio e un intento educativo. L'obiettivo della delibera, oltre alle manifestazioni e gli eventi patrocinati e organizzati dal Comune, prevede che anche le sedi comunali e le nostre scuole adottino politiche plastic free. Quindi in primis si procederà allo scadere delle attuali concessioni a effettuare una manifestazione di interesse affinché nelle nostre sedi comunali vengano installati dei distributori automatici che prevedano l'utilizzo di bicchiere ed accessori in plastica monouso che sono quindi smaltibili all'interno della frazione organica. In più l'altro obiettivo importante e abizioso che ci diamo è quello di far sì nei prossimi anni di installare all'interno delle sedi comunali e dei nostri plessi scolastici, come già avvenuto nelle scuole medie nel corso del passato mandato amministrativo, dei fontanelli per gli erogatori di acqua, in modo tale da permettere a tutti i dipendenti del Comune di Montemurlo e anche ai nostri studenti di poter usufruire dell'acqua del rubinetto, dell'acqua chiamata l'acqua del sindaco, anziché utilizzare acqua minerale in bottigliette monouso.